Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook. Vi lascio il link nell'info box. Detto questo, andiamoci dentro col video. Ci troviamo a Sundown, nel New Hampshire, la tipica comunità con una storia che risale all'epoca delle colonie. È una cittadina rurale, le abitazioni sono sparse nel territorio. Sundown consiste in una strada principale che la attraversa e su cui si trovano una chiesa, un ristorante e un minimarket. Ed è anche il posto che Richard Manning chiama a casa. Nato l'11 dicembre del 1968 a Lowell in Massachusetts, Richard si diploma all'Alvern High School nel 1986. Presta servizio nell'esercito americano durante la guerra del Golfo. È un uomo che ama stare all'aria aperta e a contatto con la natura. Va spesso a pescare e adora il campeggio. Inoltre è un appassionato motociclista. Nel 2010 decide di comprare un ranch a Sundown al 31 di Hollow Oak Drive. Richard, ora 43 anni, è un padre divorziato con quattro figli e lavora come commercialista in un'azienda tecnologica. È un uomo con abitudini precise. Ogni giorno si alza, apre le tende di tutta la casa e poi porta a passeggiare il suo cane, Paco. Richard ha anche due gatti a cui è molto affezionato. La natura affettuosa dell'uomo va oltre i suoi animali, nonostante un passato sentimentale decisamente complicato. Richard infatti ha ben tre ex mogli. La situazione però non è assolutamente problematica. L'uomo va d'accordo con tutte e tra le donne che hanno anche fatto amicizia tra loro. Sono sempre in contatto come una grande famiglia e Richard è un uomo molto amorevole, tiene molto a tutti. Arriva l'estate del 2010 e Richard apre nuovamente il suo cuore, pronto a trovare l'amore. E in effetti non ci vuole molto prima che conosca la 39enne Nicole De Blanc, una madre casalinga, attraverso un sito di incontri. Anche se il divorzio tra Nicole e il suo ex marito non è ancora effettivo, Richard è sicuro di aver trovato la donna giusta per lui. Si divertono insieme, vanno spesso a cena e la relazione progredisce abbastanza in fretta. I due insieme sono molto felici ma Nicole non riesce ad accettare la presenza delle figlie di Richard. Le ragazze infatti vanno a trovarlo una domenica a sorpresa e lì trovano anche Nicole, visto che i due si erano messe d'accordo per guardare un film insieme nel pomeriggio. La presenza delle figlie di Richard però guasta i piani di Nicole, la quale dopo la visione del film avrebbe voluto uscire a cena con l'uomo e poi passare una notte di passione con lui. La donna inoltre vuole essere la figura centrale della sua vita. Ma Richard ha ben tre ex mogli con cui va d'accordo e che frequenta i quattro figlie. Di certo non ha intenzione di cacciarle per Nicole e infatti è lei che se ne va quel pomeriggio, dicendo a Richard di chiamarla quando non avrà distrazioni. distrazioni. Dopo questo fatto l'uomo inizia a pensare, ad avere dei dubbi. È davvero Nicole la donna con cui vuole condividere la sua vita? Una donna che si scoccia ad avere attorno le sue figlie? No, decisamente no. Richard sicuramente aveva grandi sogni e progetti, sperava che Nicole fosse quella giusta, ma dopo un anno di frequentazione capisce di essersi sbagliato. I due hanno aspettative diverse, così Richard decide di chiudere definitivamente la relazione. Anche se è deluso per la separazione da Nicole, Richard torna al suo ruolo preferito, essere un grande padre. Le sue figlie sono sempre la sua priorità e non permette che i problemi sentimentali influenzino la famiglia. Alla fine decide di ributtarsi nella mischia, sicuro di trovare il vero amore prima o poi. Online incontra un'altra donna di nome Jane. I due in effetti sembra proprio che si completino a vicenda. Jane è una madre divorziata e lavora. La donna è attratta dal bel carattere di Richard. È un uomo molto ottimista che difficilmente si butta giù, cerca sempre comunque di vedere il bicchiere mezzo pieno, piuttosto che mezzo vuoto. Questo colpisce particolarmente Jane. Inoltre, cosa da non sottovalutare, le figlie di Richard hanno fin da subito un'ottima impressione di Jane. È anche lei spigliata e divertente, spensierata, fa spesso battute, esattamente come Richard. E soprattutto si dimostra una donna amorevole. Ogni volta che le figlie di Richard vanno a trovarlo, per fargli una sorpresa, se Jane è presente, non si lamenta mai. Anzi, quella per lei è un'ottima occasione per mettersi a cucinare una bella torta da mangiare poi tutti insieme. Richard è contento. Jane ha preso bene la sua situazione, ma soprattutto lo comprende. L'uomo è molto legato alle sue figlie, non potrebbe mai e poi mai metterle in secondo piano. È venerdì 13 gennaio 2012, Richard è appena arrivato a casa dopo una lunga giornata di lavoro. Entra in camera stringendo in mano il telefono, si sta scambiando degli sms con Jane. Poi si siede sul letto, si rilassa e verso mezzanotte, prima di mettersi a dormire, la chiama. Le dice che la ama tanto e che si sarebbero sentiti il giorno successivo per decidere cosa fare quel fine settimana. Il giorno dopo, il 14 gennaio, Jane si sveglia la mattina e gli scrive, sono circa le 10. Non riceve risposta, ma non si allarma, sa che a Richard piace dormire il sabato mattina. Jane quindi passa la mattinata a fare delle commissioni, ma non ha notizie di Richard. Ed è strano, perché ormai è mezzogiorno. La donna trova che sia un comportamento insolito. Richard ama dormire il sabato mattina, questo sì, ma prima di pranzo è solito svegliarsi per portare il cane a fare una passeggiata. Come tutti i giorni. Passano le ore, arriva sabato mattina, ma non ci sono ancora notizie. Jane è chiaramente preoccupata, pensa che a Richard sia successo qualcosa di brutto, quindi decide di andare a casa sua per controllare. Quando Jane arriva a casa dell'uomo, si accorge immediatamente che c'è qualcosa di strano, la casa è completamente buia. La donna si ferma e rimane in auto, pensando a cosa fare. Dopo pochi minuti, esce dalla macchina dirigendosi a passo spedito verso la porta d'ingresso. Suona il campanello e bussa più volte alla porta, ma nessuno le apre. Quando poggia la mano sulla maniglia della porta d'ingresso, si rende conto che è chiusa. Anche questo è strano. Richard, quando è sveglio, lascia sempre la porta d'entrata aperta. La chiude prima di andare a letto. Allarmata, Jane decide di andare verso la porta, sul retro, che conduce al semi interrato. Prova a spingerla e si rende conto che quella invece è aperta. Quindi entra in casa da lì. Jane è preoccupata. Non solo teme che qualcosa in casa non vada, ma anche di non essere sola. Ha una brutta sensazione. Si sente osservata. Preoccupata di cosa o di chi l'aspetti di sopra, Jane afferra un martello per difendersi. Poi sale le scale. Nota che le tende sono chiuse e il cane sta dormendo nella sua cuccia, tranquillo. Quindi continua a controllare il resto della casa. È tutto buio e Jane è spaventata, sale silenziosa alle scale e si dirige verso la camera da letto di Richard. Apre la porta, entra nella stanza e vede l'uomo a letto. La donna si avvicina. Richard è completamente sotto le coperte, nelle quali sporge solo una mano. La tocca e la sente gelida. In preda al panico chiama il 911 e spiega all'operatore che si trova a casa del suo fidanzato e crede che lui sia morto. Gli investigatori arrivano sulla scena del crimine e trovano Richard a letto, sdraiato, con una ferita d'arma da fuoco alla testa. Non ci sono tracce di lotte in quella stanza. Sembra che l'abbiano ucciso proprio mentre era sdraiato a letto, forse, mentre dormiva. Gli agenti controllano con attenzione la camera, ma non riescono a trovare l'arma del delitto. Trovano però un bossolo che è chiaramente marchiato, calibro 380. A questo punto gli investigatori sanno qual è il tipo di arma con cui è stato compiuto il delitto. E quindi, quale pistola cercare? Per gli inquirenti un omicidio così sfietato vuol dire solo una cosa. Chi l'ha ucciso ha voluto vendicarsi per qualcosa. È chiaramente un omicidio di natura personale. Non è casuale, non ci sono segni di rapina nella dimora, le porte non presentano segni di scasso. Quindi, chi è entrato in casa? Gli investigatori ne sono certi. Tra le persone vicine a Richard si nasconde un assassino, ed ora devono scoprire chi è. Cercano quindi di identificare chiunque potesse avere dei motivi per fargli del male. Iniziano con l'interrogare la persona chi ha ritrovato il corpo. Jane, la fidanzata di Richard. La donna è sconvolta, sembra essere sotto shock e viene portata in centrale. Nel frattempo, gli investigatori concentrano la loro attenzione sul resto della casa, per vedere se per caso c'è qualcosa di insolito. E in effetti, quando scendono a controllare il seminterrato, qualcosa di insolito lo vedono eccome. C'è una finestra rotta. Quindi, ipotizzano che l'assassino si sia introdotto in casa proprio da lì. Mentre danno un'occhiata all'esterno della casa, trovano alcune impronte sul terreno. Sono di uno stivale e sono alquanto grandi. Pare essere un 44 o un 45. I tecnici della scientifica fanno dei calchi delle impronte per poterle eventualmente confrontare con delle scarpe che sarebbero potute diventare delle prove nel corso delle indagini. Uno degli investigatori, inoltre, individua una pietra macchiata di sangue che potrebbe essere una prova molto importante. Gli agenti ipotizzano che l'assassino si sia tagliato quando ha rotto i vetri della finestra. Chiedono quindi al laboratorio di analizzare il campione di sangue. Però ci vogliono almeno due settimane per avere risultati. Mentre i poliziotti si tacciano alla scena del crimine, altre agenti vanno dalla famiglia di Richard per comunicare la sua tragica morte. Quando chiedono loro se ci fosse qualcuno che poteva avercela con Richard, le figlie insistono nel dire che il padre non aveva nemici. Anzi, era circondato da molte persone che gli volevano bene, anche se non parlava spesso con i vicini di casa. È sempre stato molto simpatico e gentile con tutti. Senza sospettati validi, gli investigatori iniziano la loro ricerca da zero. Un colpo di pistola a bruciapelo durante il sonno fa pensare a un delitto passionale. Quindi cominciano a interrogare la fidanzata di Richard, Jane. Gli inquirenti fanno un controllo su di lei, che risulta pulita, ma questo non significa che non sia lei l'assassina. Conducono Jane in una stanza, le chiedono di poter controllare il suo telefono, i suoi effetti personali, le domandano se possono fotografare i vestiti che indossa, le sue mani, se i dorsi che i palmi. Poi gli investigatori fanno sedere la donna per l'interrogatorio, chiedendole di raccontare tutto ciò che ha visto quando è arrivata sulla scena e quello che era successo prima. Jane afferma di aver sentito Richard per l'ultima volta al telefono la sera precedente, verso le 23.40. I detective, basandosi sulla posizione del corpo, sospettano che Richard sia stato ucciso nel sonno e collocano l'ora della morte tra quando Jane gli ha parlato e le 10 del mattino successivo quando ha detto di non riuscire a contattarlo. Il fatto che Jane sembri essere l'ultima persona ad aver parlato con Richard e la prima ad averlo trovato, rende gli investigatori sospettosi. Le chiedono se ha tralasciato qualcosa, se per caso lei e Richard avessero dei problemi di coppia ultimamente. Jane però esclama sicura, no, niente del genere, andava tutto bene. La donna capisce fin da subito di essere una sospettata perché gli investigatori con lei sono molto duri, vogliono che confessi. Ma Jane afferma di non essere coinvolta nell'omicidio di Richard e di essere andata a letto dopo avergli parlato. Purtroppo però nessuno può confermare la sua avversione, quindi il suo alibi non è confermato. Ma insiste nel dire che non aveva assolutamente motivo di ucciderlo, andava tutto bene con Richard e la sua famiglia. Jane infatti a questo punto spiega agli investigatori che Richard aveva tre ex mogli, che però sono in buoni rapporti sia tra loro che con Richard. Il detective si stupisce di questa informazione e Jane rivela sinceramente che anche lei all'inizio era stupita, ma poi ha capito che sono una specie di famiglia allargata e si vogliono molto bene. A questo punto uno dei due poliziotti chiede a Jane se c'è qualcuno a cui Richard non piaceva. La donna quindi menziona immediatamente l'ex fidanzata dell'uomo, Nicole LeBlanc. Questa donna la preoccupa molto, spiega che Richard la chiamava l'ex fidanzata svitata. L'investigatore alza le spalle e dice alla donna, beh, chi non ne ha una? Ma Jane spiega che Nicole non era affatto una normale ex fidanzata gelosa. La donna racconta che una sera era a casa di Richard a guardare un film con lui, quando hanno sentito buzzare alla porta finestra sul retro. Richard era andato a controllare e Jane, preoccupata, lo aveva seguito. L'uomo aveva guardato attentamente la finestra con la tenda tirata e sembrava proprio che ci fosse qualcuno lì davanti. Così aveva deciso chiaramente di aprire la tenda con Jane sempre alle sue spalle e aveva trovato proprio Nicole davanti alla porta finestra con le mani appoggiate al vetro. Jane si era spaventata moltissimo e aveva guardato Nicole che la stava fissando con odio attraverso il vetro. La donna era stata lì ferma a guardarli per un paio di minuti, poi se n'era andata. Nicole era una donna gelosa? Potrebbe aver agito contro Richard in preda alla rabbia per la sua relazione con Jane? Il passo successivo è chiaramente controllare Nicole. Ma prima che gli investigatori possano considerare Nicole e iniziare gli accertamenti, Jane aggiunge un altro nome alla lista dei sospettati. L'ex marito di Nicole, John LeBlanc. Jane spiega che Richard le aveva raccontato di non piacergli molto. Aveva avuto con lui un paio di scambi accesi dovuti al fatto che Nicole aveva iniziato a frequentare Richard mentre stava ancora col marito. In un'occasione John si era presentato a casa di Richard che aveva fatto una vera e propria scenata di gelosia. Richard in ogni caso gli aveva dimostrato di non essere intimidito da lui e dai suoi modi. Se John porta ancora rancore per la passata relazione tra Richard e Nicole, sorge un nuovo interrogativo. L'omicidio dell'uomo può essere un triangolo amoroso divenuto mortale? Gli investigatori ritengono che sia possibile che Jane stia usando Nicole e John LeBlanc per depistare l'indagine, quindi le dicono di non lasciare la città finché non verificano la versione dei LeBlanc. Dopo un rapido controllo gli agenti scoprono che Nicole è tornata a vivere proprio a casa di John. Sono ormai passate diverse ore dal ritrovamento del corpo senza vita di Richard. È domenica mattina presto quando gli investigatori vanno a casa dei LeBlanc per dire loro che Richard è stato ucciso. Dopo aver dato la notizia alla coppia, Nicole viene portata al dipartimento della polizia, mentre John è interrogato nella sua cucina. Fin dall'inizio gli investigatori capiscono che la loro presenza non è gradita e John sembra particolarmente infastidito. Data la palese ostilità dell'uomo, gli inquirenti decidono di procedere con cautela. Gli chiedono di aiutarli a comprendere che cosa succede tra lui e Nicole. John e Nicole sono stati sposati per 12 anni e hanno avuto due figli, ma quel tempo il loro rapporto era andato a rotoli. Si era separato da Nicole e lei aveva cominciato una relazione con Richard. John era frustrato perché la donna frequentava casa di Richard. Ammette di aver seguito Nicole e Richard fino alla casa di lui in diverse occasioni e alla fine ha deciso di affrontarli. Durante il racconto gli investigatori osservano John e uno di loro dice «A quanto pare non ti piaceva, eh?» E l'uomo risponde «Beh, diciamo che non mi dispiace che sia morto». Al che gli agenti si scambiano uno sguardo preoccupato. Questa affermazione li mette in allarme. John Leblanc ha appena ammesso di avere un movente per uccidere. O è solo un marito seccato che vuole sfogarsi? Gli investigatori non possono esserne sicuri, ma ritengono che John abbia chiaramente un movente e una valida ragione per aver commesso il crimine. John però sottolinea che, nonostante l'astio per Richard, si sta riconciliando con Nicole. La donna infatti è tornata a casa da lui e stanno cercando di riavvicinarsi. John dichiara che, visto come si stava evolvendo la situazione con Nicole, non aveva motivo di uccidere Richard. Gli agenti però non sono convinti, pensano che stai nascondendo qualcosa, così gli chiedono dove fosse la sera dell'omicidio. L'uomo risponde che era tornato dal lavoro, aveva recuperato i figli a scuola e avevano cenato a casa, ma Nicole non c'era, era a casa di un'amica ed era rientrata più o meno alle 6 del mattino successivo. L'alibi di John non è molto solido, ma potrebbe essere plausibile, però gli investigatori hanno ancora dei dubbi. Chiedono all'uomo se per caso in casa abbia armi e John sostiene di non possedere armi da fuoco. In ogni caso, i detective vanno via da casa sua convinti che ci sia qualcosa di più e di dover approfondire. Forse, dopo l'interrogatorio in programma con Nicole alla centrale, riusciranno a fare più chiarezza. Ma una volta di fronte alla donna, si rendono conto che non intende assolutamente facilitare le cose. È piuttosto costante ed ha segni di irritazione. Gli investigatori cominciano chiedendo a Nicole dell'incidente, se così possiamo definirlo, raccontato da Jane, vale a dire la sera in cui Nicole si è presentata a casa di Richard bussando alla porta finestra, in modo anche alquanto inquietante. La donna spiega che si è trattato soltanto di un equivoco, perché cercava di attirare l'attenzione di Richard nel tentativo di recuperare il rapporto. Sostiene di essere rimasta scioccata nel vedere un'altra donna in casa, ma che, una volta che ha realizzato che Richard frequentava questa donna, se n'era andata e aveva smesso definitivamente di insistere. Piuttosto dice che è Jane, che sembra non riuscire a sopportarla come ex. Gli investigatori non intendono prendere subito sul serio Nicole, specialmente visto come è morto Richard. Si tratta di un omicidio dettato dall'emotività, e la donna ha ammesso chiaramente di provare sentimenti profondi nei confronti di Richard e di voler tornare con lui. Gli agenti devono essere sicuri che le affermazioni di Nicole corrispondano a verità, per poterla escludere dalla lista dei sospettati. Potrebbe essere stata agilosa della relazione tra Jane e Richard, e questo sì che può essere un movente. Domandano a Nicole che cosa ha fatto la sera dell'omicidio, e la donna ammette di aver mentito al marito. Non è andata a casa di un'amica, in realtà si è vista con un uomo. Vedendo che Nicole ha l'abitudine di sgattaiolare via alle spalle del marito, gli investigatori le chiedono se reputa che John potesse essere geloso, se avesse saputo che c'era un altro uomo nella sua vita. A quel punto Nicole spiega che è per questo che non ha detto niente a John, ma puntualizza che al contrario di Richard, Dennis Johnson, l'uomo con cui era stata mentendo al marito, in realtà è solo un amico. Nicole racconta che lei e Dennis sono usciti a cena e poi sono andati a casa di lui. Hanno guardato la tv, lei si è addormentata sul divano. È rimasta sorpresa quando si è risvegliata lì la mattina, ed è corsa subito a casa. A quanto pare Nicole ha mentito al marito sui suoi movimenti la sera dell'omicidio di Richard e gli agenti devono essere sicuri che non menta anche a loro. Dennis Johnson è il suo alibi, quindi gli inquirenti devono assicurarsi che lui confermi la versione di Nicole. Gli investigatori dunque vanno a casa sua, l'uomo è stupito quando li vede, nonostante ciò si dimostra collaborativo. Senza svelare troppo sull'indagine in corso, gli agenti chiedono a Dennis di confermare i suoi movimenti la sera del 13 gennaio. L'uomo spiega di essere stato con la sua amica Nicole, racconta che sono andati a mangiare, poi sono tornati a casa sua e sono andati a letto. Gli investigatori sono sorpresi che Dennis ammetta tranquillamente che lei è rimasta per la notte, quindi gli chiedono, scusi, lei lo sa che Nicole è sposata, vero? Dennis dice che sì, ne ha il corrente, ma la sua relazione con Nicole non ha nulla di romantico, insomma sono solo amici, niente di più. Dennis in pratica conferma quanto ha detto Nicole, fino al momento in cui se n'è andata la mattina dopo, alle 5.30. Con questa tempistica agli investigatori sembra plausibile che fosse rientrata a casa verso le 6, il che coincideva con quanto dichiarato dal marito di Nicole. Pertanto, grazie a Dennis, gli investigatori confermano l'alibi di Nicole per la sera in cui Richard è stato ucciso. Alla centrale a questo punto gli inquirenti controllano la lista dei sospettati e due nomi passano in cima, il marito di Nicole, John LeBlanc, e la fidanzata di Richard, Jane. Nessuno dei due ha un alibi solido. Alla fine però gli investigatori concludono che Jane non aveva un vero movente per uccidere Richard. Jane in realtà sembra meno una sospettata e sempre di più una fidanzata preoccupata. La lente di ingrandimento è puntata su John, il quale ha dichiarato di essere stato con i figli tutta la sera. Ma è difficile provarlo visto che i bambini dormivano. Quindi con Nicole fuori e i figli addormentati John può essere uscito, aver raggiunto casa di Richard, essere entrato dal seminterrato e averlo ucciso. Il problema è che, senza prove valide che colloquino qualcuno sulla scena del crimine, gli investigatori sperano che il sangue trovato sulla pietra in giardino li porti all'assassino. Un mese dopo arrivano i risultati, ma non solo quelli che si aspettavano. Il sangue infatti risulta appartenere ad un gatto. Non c'è niente a questo punto che collochi John sulla scena del crimine. Gli agenti decidono di chiedere i tabulati telefonici sia di John che di Nicole. Con i tabulati in mano iniziano a pensare che John sia stato onesto nella sua dichiarazione dato che non risultano chiamate. È credibile che si trovasse a casa. Ma nel caso di Nicole, gli investigatori trovano diverse chiamate fatte dal suo cellulare a quello di Dennis la notte dell'omicidio proprio nel lasso di tempo in cui Nicole ha affermato di essere a casa dell'uomo a dormire. Perché Nicole avrebbe dovuto mettersi a chiamare Dennis in piena notte se si trovava già a casa sua? Ormai la domanda più ovvia è la seguente. Dove si trovava Nicole nelle prime ore del mattino del 14 gennaio? Arriviamo al 15 febbraio quando gli investigatori riconvocano Nicole per avere delle risposte. Durante questo secondo interrogatorio le chiedono di spiegare perché avesse chiamato la persona che stando alle sue stesse dichiarazioni era già lì con lei. Nicole a questo punto dichiara che no non è possibile quei tabulati non sono giusti perché stavano avendo un rapporto intimo. Nicole ora afferma di aver mentito sulla natura della sua relazione con Dennis ma anche Dennis ha mentito. Quindi è lui che copre lei o è lei che sta coprendo lui? Gli agenti davanti a quei tabulati telefonici non possono credere alla nuova versione di Nicole e le dicono apertamente che sanno che sta mentendo. I tabulati provano che ha chiamato Dennis Johnson alle 3.30 del mattino. Nicole si trincera nel silenzio e smette di collaborare ma gli investigatori hanno ancora molte domande. Hanno scoperto che Dennis Johnson è l'amante di Nicole e il fatto che i due siano intimi interessa ai detective perché l'uomo può avere avuto un motivo per commettere il crimine la gelosia. Considerano anche la possibilità che sia Dennis che Nicole siano dietro l'omicidio di Richard ma dal momento che la donna si rifiuta di collaborare sperano di poter arrivare a lui. Uno degli agenti inserisce il nome di Dennis nel database criminale e trova tracce di lui risalenti al 2011. All'epoca c'era stato un incidente con la moglie erano intervenuti degli agenti e avevano confiscato due armi da fuoco tra cui una pistola calibro 360. Ma c'è qualcosa di allarmante quelle armi sono state poi restituite a Dennis Johnson. I detective sanno che la pistola usata per l'omicidio di Richard è una calibro 380 quindi quella in possesso di Dennis potrebbe essere l'arma del delitto? C'è di più Dennis non solo ha lo stesso tipo di arma usata per compiere l'omicidio ma sembra avere anche un movente. Gli investigatori hanno trovato un sospettato più che plausibile Dennis è l'attuale amante dell'ex fidanzata della vittima e gli agenti ritengono fosse geloso proprio di Richard. Gli intrecci sentimentali in questi casi spingono ovviamente gli investigatori a indagare a fondo sui fatti ma bisogna anche scavare nelle emozioni che guidano le persone. Dennis però non rende agli investigatori le cose facili e quando viene interrogato nuovamente afferma subito di avere un avvocato. davanti a Dennis e al suo avvocato quindi gli investigatori espongono le prove contro di lui sanno che lui e Nicole hanno rapporti intimi sono a conoscenza del fatto che i due non erano insieme la sera dell'omicidio e infine hanno scoperto che Dennis ha lo stesso tipo di pistola che ha ucciso Richard. Tutte le prove in pratica portano a Dennis. L'uomo a questo punto capisce la situazione in cui si trova e di certo non vuole finire in prigione. Non ha ucciso Richard ma afferma di sapere chi è stato. Nicole quella sera non è rimasta con lui per tutta la notte e se n'è andata verso le tre del mattino. Dennis non ha idea di dove si è andata ma è tornato un paio di giorni dopo dandogli la sua pistola che chiaramente aveva rubato e chiedendogli di distruggerla. Dennis racconta di essere rimasto sorpreso dal fatto che Nicole avesse preso l'arma e di essersi stupito ancora di più quando la donna ha ammesso candidamente di aver sparato a Richard. Ebbene sì è stata proprio Nicole ad ucciderlo. Questa è indubbiamente una versione credibile ma gli investigatori sono ancora scettici. Dennis a questo punto capisce che i detective non gli credono quindi si offre volontariamente di indossare un microfono e incontrare Nicole così da farla parlare. In questo modo gli agenti avrebbero sentito la confessione direttamente dalla sua voce. Gli investigatori la consentono e il 21 febbraio mettono in atto il piano. Fanno incontrare Dennis e Nicole a pranzo e non passa molto prima che i due parlando inizino a discutere delle circostanze della morte di Richard. Dennis racconta a Nicole che la polizia l'ha cercato e le chiede cosa potrebbero avere contro di lui. Ma Nicole è sicura quando afferma non hanno assolutamente niente lo so perché se avessero qualcosa su cui indagare ne avrebbero già arrestato. Dennis a questo punto le chiede come ha fatto a non lasciare alcuna traccia di sé e con sorpresa degli investigatori che stanno ascoltando Nicole spiega tutto proprio proprio tutto. Racconta di essere andata a casa di Richard e di essere entrata da una finestra che aveva rotto in precedenza quando l'uomo non era a casa. Ha poi aperto la porta e se n'è andata tornando lì solo la notte successiva. In questo modo è potuta entrare in casa senza fare rumore. Poi è salita fino al secondo piano è entrata in camera di Richard si è avvicinata a lui l'ha guardato mentre dormiva e poi gli ha sparato alla testa. È una missione scioccante anche se Nicole non sembra affatto sconvolta. Dice chiaramente a Dennis che neanche si sente in colpa anzi tutt'altro si sente addirittura sollevata di essersi liberata di Richard. Con una buona dose di arroganza in ogni caso Nicole afferma di essere molto intelligente per questo non ha lasciato alcuna traccia. Si ritiene più furba delle forze dell'ordine ed è convinta di averla fatta franca ma si sbaglia di grosso. Infatti una volta avute le informazioni da Nicole stessa gli investigatori ottengono un mandato d'arresto. Il 24 febbraio 2012 Nicole LeBlanc viene arrestata con l'accusa di omicidio di primo grado. In cambio della sua collaborazione nessuna accusa è stata mossa contro Dennis Johnson. Nicole si è richiarata colpevole di omicidio di secondo grado ed è stata condannata a 35 anni di carcere. Trovo davvero assurdo come al solito uccidere delle persone per gelosia o perché quella persona si è trovata un'altra fidanzata o un'altra donna con cui uscire. È davvero assurdo per quanto ci siano in abbondanza casi di questo tipo omicidi passionali ogni volta mi stupisco sempre di più in questo caso in particolare perché a questo punto sì Nicole era entrata in ossessione per Richard ma non lo dava assolutamente a vedere anche perché insomma sembrava quasi che a Nicole non andasse bene la vita che conduceva Richard la presenza delle tre ex mogli la presenza dei figli che comunque entravano in casa senza avvisare e quindi onestamente io spesso e volentieri non capisco non comprendo davvero fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questo caso fatemi sapere se lo conoscevate già come al solito ci becchiamo nei commenti io nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo nel prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti grazie a tutti